Siamo a Filadelfia in provincia di Vibo Valencia, oggi con le nostre telecamere parliamo con uno storico. Poi siamo nella piazza centrale di Filadelfia, perché è particolare questa piazza? Sì, Filadelfia è particolare nella sua fondazione, è stata edificata subito dopo la distruzione del vecchio paese di Castrimonardo, un paese medievale, con una concezione architettonica e urbanistica totalmente diversa rispetto a quella che era il borgo medievale. Quindi siamo in un'epoca in cui circolavano idee nuove nell'ambiente napoletano, quindi anche a livello internazionale vengono mutuate delle idee democratiche. Filadelfia coglie questa particolarità attraverso anche un grande personaggio, il Vescovo Giovanni Andrea Serrao, che dà anche la linea, la linea culturale ideale all'edificazione. Quindi in realtà abbiamo questa piazza e tutto il tessuto urbano è costruito ed edificato come un tessuto a maglie regolari e riprende in qualche modo quella che era l'idea democratica che circolava negli Stati Uniti, quindi è una mutuazione di quella pianta che ricalca un po' in miniatura una grande piazza centrale con quattro parchi nei relativi quartieri. In Filadelfia invece si occupa quattro chiese per ogni quartiere, invece di un parco una chiesa. Abbiamo chiesa San Francesco, chiesa del Carmine, San Teodoro, Santa Barbara. E' l'unica, possiamo dire in Italia forse, che è così una... Penso di sì, proprio perché anche le idee innovative c'è un'ambizione in quel... Ecco, si potrebbe creare un turismo per arrivare qui a Filadelfia? Ecco, cosa c'è oltre la piazza da vedere in questo bellissimo territorio? E ci sono, diciamo, l'urbanistica è particolare, come abbiamo detto, bisogna cogliere anche a livello simbolico i messaggi e quindi perché è stata concepita in questo modo? Già nella sua struttura vediamo che c'è una, diciamo, un'idea molto precisa, quella della distinzione fra il potere civile e il potere religioso. Quindi questo si traduce anche a livello architettonico, per cui la piazza funge da servizio civile, mentre, come notiamo, le chiese insistono sui quartieri, benché poi l'aspetto religioso, diciamo, oggi è quello che emerge di più, per via dei quattro campanili... Quindi un turismo religioso si potrebbe creare... Ma anche laico dal punto di vista delle innovazioni. Qui vengono, diciamo, introdotte per l'epoca diverse innovazioni, anche per esempio il seppellimento dei morti fuori dal centro abitato, che avviene prima dell'editto di St. Claude come disposizione. Quindi tante altre innovazioni che tuttavia non precludono quella che è l'utopia calabrese. Perché rispetto alle altre città coeve dell'epoca, come Palmi o altre cittadine ricostruite dopo il terribile terremoto del 1783, Filadelfia ha quasi un ritorno a quella che è l'utopia, una città centripeta che guarda al suo centro, mentre le altre, diciamo, sono un po' più moderne, tra virgolette, per l'epoca. Quindi Filadelfia coniuga utopia e innovazione. L'utopia perché ritorna all'utopia della città chiusa, ma allo stesso tempo aperta, aperta come innovazione. Grazie.